Buone notizie per la Battipagliese, che è pronta a definire i quadri tecnici per l'eccellenza. Il presidente resta Mario Pumpo, che lo scorso inverno ha rilevato le zebrette dalle mani di Mario Palmentieri. Confermato anche il direttore sportivo Carmine Coriglia, pronto a costruire la squadra con un progetto che si baserà su giovani del territorio, la segreteria sarà gestita dal gruppo di Cristian Noschese. Infine potrebbe restare mister Gerardo Viscido. Ma tutte le strategie per la nuova Battipagliese saranno svelate in una conferenza prevista a breve.